ok ragazzi ci siamo eccoci qua proviamo un attimo il gioco ieri visto da allora il gioco in questione si chiama come da titolo Radical Ace l'ho tolta ora fra un po' c'è l'elaborazione allora una specie di Fortnite tanto per cambiare abbiamo voluto provare questo titolo mi sembra più carino già comincio col fatto che sta musica mi introduce al gioco con a finire bellissima sta cosa poi non esistono le costruzioni qui avete il vostro radar potete guardare la mappa quanto volete ecco le zone che sono rosse ovviamente sono zone da killer ora noi andiamo a cercare delle armi dove potremo poi tentare di seccare quelle lì ovviamente 92 persone muoiono e via voi dovete trovare dei soldi durante la mappa potete trovare una specie di chest avere dei mezzi fatti di biciclette e cose del genere e per il resto è un nuovo gioco free to play da steam andatelo a scaricare l'ho visto ieri in un video di Zeb89 mi è piaciuto ho visto che è gratuito se costava più di 5 euro non l'avrei comprato però per quel prezzo che ha per ora ne vale la pena ecco vedete qui tra 742 posso comprarmi questo ora ovviamente non posso qualcuno ha fatto qualcosa qualcuno ha fatto qualcosa da questa parte che cazzo è stato questo ti devo sparare 1.45 e finish life allora sono a 61 dollari continuiamo a prendere soldi per prendere soldi bisogna cercarli ovviamente non è che ti regalano una volta che hai messo da parte un po' di soldi vai in giro fino a trovare questi vari big money puoi prenderci tutte le armi e far tutto quello che ti pare c'è armatura questo è il casco come vedete c'ho già il casco livello 2 però non è così potente ci sono i vari livelli del casco ovviamente l'oro porta meglio ma sta attento a non essere seguiti più che altro e vai paghiamoci così paghiamoci così dicevo dai no dentro questa cosa se non si spacca ovviamente allora di qua non si può saltare ma dai sto bug a vedere in questo posto qua sembra bello grande siamo in 50 102 ancora ovviamente fra 2 minuti e 41 devo uscire da questa zona qui perché altrimenti su cavoli se io ora trovassi delle armi e trovassi gente che non hanno ancora armi sembra bellissimo qua non si trova una sega però ora a 2 minuti a un minuto vado via subito al corso guarda ma qualcosa può avere qualcosa qualcosina è bello ragazzi sto gioco comunque mi sta prendendo vi dico la verità io mi sa che ci giocherò me lo tengo scaricato lì e ci giocherò parecchio perché è già meglio di quelli che ci sono per adesso ovviamente sto in attesa ancora di queste musichette così fighe ci stanno questo è un battle royale già meglio di fortnite fortnite è una merda proprio umana in comportamento questo gioco qui fatto per persone che sono merda umane nel senso che non è che siete merda umane perché giocate a fortnite però tutti esaltati da questo gioco qui a me mi state sui coglioni perché è un gioco che c'erano già il battle royale sembra che è uscito quello lì il migliore e finalmente ci voleva il battle royale esistono già sul pc ragazzi da una vita non è che avete scoperto l'acqua calda devo allontanarmi cosa mi dà 742 questo è più carino devi cercare i soldi per poi avere le armi poi come vedete ci sono i lucchetti i quali per sbloccarli dovete trovare delle parti di zaino cioè zaini proprio credo ora non immagino ci sarà il zaino livello 1 ti sblocca una parte ma il livello 2 due parti livello 3 3 parti livello 4 quello oro che non so ti sblocca tutti i slot diciamo è più intelligente come cosa è intelligente quello che non è intelligente è che manca poco cazzo una rischia veloce veloce questa è una cesta però vedete bella anche questa cosa io si prendo l'accesso si prendo l'equipaggiamento prendo tutto però perdo tempo faccio rumore capito prendo le cose faccio rumore adesso non quando ti avvicini della cesta questo è molto bene almeno fortnite piglia qualche idea da questo gioco un po' di intelligenza arriviamoci faccia andare in giro spaccare ma non per fare materiale spaccare per prendere soldi e poi andare dai cose come vedete hanno già copiato anche quello che fa fortnite ha già copiato qui ha già copiato queste cose qua mettere i bauletti pensate qua lo fanno questo gioco fanculo ah si può parlare lo sento oh dove è l'arma uno grazie ecco fai credere di non averla no fuck ehi come si parla come si parla come si parla mi sta parlando ma non so che cazzo vuole infatti dove è andata mi senti where are you from oh 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 559 dollari non male ragazzi non male figlio di puttana Dove sei? Dove è a salvare? Non lo vedo È dietro di me Te le faccio vedere Fa male, eh? Fa male, vai di kill Cattivissima kill Vedete un fucile di merda E frego anche i soldi Di regola Dove fucili pronti Ok Bello, kri kri Questo ci giochiamo oggi e te Va bene? Anche in due si può giocare Fammi finire Stta partita devo finire Ho messo benissimo Giubbetto addirittura Livello 1 però Qui si è tra un pochino arriva Eh lo so però Ormai Siamo in 21 Allora Ammazzata tua stronza Te forbeto con quella persona sbagliata Ecco come potete vedere anche questo è un pie to win Cioè è un pie to win scusate Questo non è un pie to win Potete scioppare Vestiti tutte le cose varie nel gioco Ma solo per una cosa estetica Ok Non potete farci altro Questa cesta è già stata vista diciamo Poi è bello le zone gialle Che ti spiega bellissimo Molto meglio ragazzi Questo gioco già Caga in testa a fortnite Ho visto un uomo Ho visto un uomo La cola sta andando Lo riprendo quando torna indietro Noi non ho visto un uomo Noi non ho visto un uomo Oppela Seconda kill Guardate quel cazzo di fortnite Venite a giocare a questo gioco qui Vi spacco il culo a tutti Tutti a farsi in muri a fortnite E ho sbloccato dei slot Guardate Vi do lezioni Vi do lezioni di vita ragazzi Questo che cazzo Devo provarlo Cos'è questo? Ma che cazzo? Forse mi dice mappa se c'è gente con questo qui Evitiamolo per ora va Allora questa Damage 4 Non male 2 3 Vediamo questo Traglione Ok Caricato 100 colpi dentro 3 3 3 Andare a cercare con gli altri Ok 140 Buonissimo Beh qui saremmo messi benino ragazzi Ok 14 Ancora Ok Vivi Tanto di qua Vuol dire che alle spalle Non maria nessuno Perché c'è rosso Un po' si vede c'è gente Quindi se c'è gente Potrebbe arrivare di là No Per ora non vedo nessuno Ok 13 ancora vive Facciamo cassa Facciamo cassa Vai Un po' di soldi ce l'abbiamo È meglio questo casco? Cosa si è messo? Livello 1 Livello 2 Eh no cazzo Anzi questo Ok Sono ancora in zona buona io Cazzo è successo? Che cazzo arriva? Io lo vado a prendere Io lo vado a prendere Io ho le palle Io lo vado a prendere Vado a prenderlo Certo che vado a prenderlo Sono due però Vediamo dove Atterra quell'altra Queste due lì Andiamo a prenderci Cioè C'è roba figa lì dentro Tanti ci andranno tutti Il match 11 rimasti Se me la gioco Di intelligenza Ragazzi Potrei fare Una bella partita Mangiare Sì sì Ora arrivo Il tempo Mi si svaga Sì 10 10 rimasti Energia Però mi serve Bene 4 Devo vedere che cazzo è il 4 30 secondi Zone Closing C'è qualcosa qui davanti Vediamo C'è ragazzi Ma mille volte Questo qui A fortnite Veramente Non vedo l'ora Che mi mettono Sti giochi qua Su ps4 Guarda 10 rimasti Sono gialle Queste cazzo Diventano Fammi vedere dove sono Devo andare laggiù Laggiù Devo andare Da un minuto 19 Via 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 Veloce Veloce Frank Bastardo Pensavo che arrivavi D'altra parte Mi sono girato E ti frega tutto Bello ragazzi Questo è Radical AIDS Visto ieri da Zeb Ho voluto portarlo Perché è un free to play Amico quello che porta a Zeb Se il gioco mi piace Lo porto volentirissimo Zeb l'ha portato in un modo Io lo porto in un altro Non è copiare ragazzi Perché Sono cose che bisogna fare Questo è chiaro Che il tuo youtuber preferito Porta un gioco bello Lo riporto Come paper list Portato a Zeb Lo porta a Stepney Quindi Stepney copia No ragazzi È una cosa che si fa Ognuno lo porta a sua maniera Vabbè ragazzi Molto meglio di Fortnite Questo sarebbe oro Ma oro sarebbe sul PS4 Peccato che sono ancora ignoranti Fortnite è di merda Non ci gioco mai più Da Frank Mazzo di tutto Passito Psss Psss Mamma mia Let me go Beelzebub Has the devil Porta side For me For me For me For me For me Grazie a tutti.